Una giornata dedicata alla legalità è stata promossa dall'Istituto Comprensivo Aganor Marconi di Marianella ed ha visto la presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'Assessore all'Istruzioni Anna Maria Palmieri. L'evento, animato da un concerto, esibizioni e videotematici, è stato organizzato per coinvolgere gli alunni nella diffusione delle buone pratiche e sensibilizzarli al rispetto delle regole. Per l'occasione è stato inaugurato anche il nuovo teatro realizzato con i fondi europei. Siamo orgogliosi di questi ragazzi, della loro analisi, della loro profondità, del loro amore per la vita, per l'uguaglianza e per la città. Sono per noi veramente uno stimolo a non mollare mai e a impegnarci al massimo per loro, il nostro petrolio, i nostri ragazzi. Dalla legalità all'impegno civile per la parità di genere, a Scampia l'Istituto Elsa Morante ha partecipato a Suffraget 2.0, un tour nazionale di cittadinanza attiva nelle scuole superiori per sensibilizzare ragazze e ragazzi sui diritti delle donne. L'iniziativa, ideata dalla scrittrice e attivista Lorela Zanardo, rientra nel programma del Marzo Donna organizzato dal Comune e coincide quest'anno con i 70 anni dal primo voto femminile in Italia il 10 marzo 1946.